Musica Hello guys, Renderna here Benvenuti qui in questo nuovo video sul mio canale Siamo su Minecraft e ho scoperto una cosa molto interessante Ma prima ci facciamo una dormita E cancelliamo anche questa scritta one way block Allora, con il SoMeel non possiamo tenere l'Electrical Engine sempre acceso Perché sennò si scalda troppo E quindi rischia di fare pumete Da quanto so, cioè da quanto ho capito Perché l'ho visto, sapete quel rosso critico Che quando lo vedete fate, oh mio dio adesso esplode tutto E così è stato più o meno una cosa del genere Allora, e quindi penso che non si possa tenere effettivamente Non si possa tenere effettivamente acceso come si fa Come ho fatto normalmente con Rolling Machine Allora, mi sono fatto un po' di clay Perché dobbiamo fare una nuova stanza Per la vostra felicità Così allarghiamo casa E ho deciso di farla tutte insieme Quindi non taglierò le parti La facciamo di qua Quindi prendiamo un attimo le dimensioni Come siamo messi, siamo messi benissimo in regia sul backpack Effettivamente grazie per il consiglio Bro, perché il Solar Helmet è davvero molto, davvero molto, molto simpatico Allora, io stavo pensando Prima di tutto ci servono questa roba qui Che non mi ricordo neanche più come si fanno Questi qua Ciseld C-U-R Ah, ok Quindi dobbiamo cuocere un po' di Ce l'abbiamo un altro po' di basalto Salve Sì che abbiamo un altro po' di basalto Stiamo scherzando Cioè abbiamo sempre tutto Abbiamo sempre tutto Abbiamo sempre tutto Quindi, tanto voi cuocete Che noi mettiamo a posto giù un paio di cose Allora, questi sono larghi 2, 4, 5, 5 di qua E, vabbè, 11 con la porta Quindi, sono 1, sono 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 e 11 Dovrebbe finire qua più o meno circa Ok, mi manca un pezzo Quindi, però io voglio fare a sto punto un'altra stanza Proprio grande come questa qua E vedere cosa succede Ehm, di interessante Allora, intanto cuocimi quest'altra clay Che è molto interessante come Come, come cosa Mi fai tutti questi bellissimi blocchettini Che poi mi fai diventare tutti questi bellissimi blocchettini Grazie Ehm, di qua Facciamo così Perfetto Questa roba qui la dobbiamo Craftare di qua Ok, facciamoci i nostri brick Siamo... dovremmo farcela, cavolo Abbiamo 64 blocchi No, forse non ce lo facciamo 64 blocchi Vabbè, noi proviamoci Nel caso poi ne cuocio altro Tanto, fortunatamente qualcuno di voi Mi ha ricordato nei commenti Che, ehm... Con la clay si fanno tante belle... Cioè, con l'iron si fa tanta bella clay Io non ci avevo pensato proprio brosso Quindi chiedo venia Allora, 1, 2, 3 Ok, qua dovrebbe finire la nostra casetta Ok Ok, ok Qua mettiamoci un blocco di terra Un blocco di terra a terra Quindi, poffete Thank you Queste la togliamo Ma che... cioè È strano come la netherrack sia più... Debole Della... Della dirt stessa Cioè, la dirt è... è... è leggerissima È... è un pezzo di dirt praticamente, no? Eh... sì Oh, mamma mia, Renna, come sei simpatico Lo so, lo so, bro Lo so Ehm... È stranissimo questa cosa Che comunque sia anche più... Ehm... Più leggera della... Più leggera della dirt Io mi ricordo l'altra volta Siamo andati nel... nel netherrack Però, cioè, sono rimasto sconvolto io, davvero Allora, facciamo alta 2 Così Perfetto Qua dobbiamo fare il tetto Ok Che... penso che lascerò sempre con i... Ehm... Con il vetro, eh Penso che lo lascerò sempre con il vetro Perché mi piace il vetro sul tetto Allora, 1 1 2 3 Giusto? Sì Dobbiamo... ah no, ce la facciamo giusto? Giusto Anche con l'albero, perfetto Teniamo l'albero sulla casa Ci sta Ci sta, ci piace Ok E come pavimento cosa metto? Che cazzo c'ho di là come pavimento? Oh mio Dio, c'ho del legno No, cobblestone Ok, metteremo cobblestone Così facciamo tutto uguale Sì, bro, io registro tutti i giorni praticamente qua sul server E non so ancora che cazzo di pavimento ho a terra in casa Sì, lo so Sono un po' idiota Non ci posso fare nulla Allora, ci serve altro basalto Altro basalto Che abbiamo qui Facciamo diventare così Così e così Perfetto Questi li facciamo diventare di nuovo così E ci dovrebbero bastare Però io vorrei fare un altro po' di clay Perché non si sa mai Facciamo così Quattro Poi con la clay li facciamo diventare una bella stack E facciamo diventare questa bella stack Tanto i bei mattoncini Così ci facciamo i nostri mattoncini Che effettivamente è molto molto bella Così mi piace questo contrasto che c'è Di mattoni e basalto Brick, basalto, bla 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 Come cazzo si chiamano loro Ok, allora Non so se lasciare una vetrata Lì, tipo O fare solamente Brick Mi sa che faremo solamente brick Proviamo e vediamo un po' poi al massimo cambio Allora, facciamo così Perché questa storia? Perché Per fare alcune cose mi servirà alimentare dei macchinari Della stessa mod Della Sawmill E visto che sarebbe un macello Piazzare un sacco di electrical engine Per dargli Elettricità appunto Allora a quel punto Preferisco farmi una Stanza apposita Dove andremo a piazzare tutti quei tipi di engine Con macchinari annessi E ci possiamo fare tutto quello che ci piace Ok, perfetto C'è solo un piccolo problema Ce l'abbiamo fatto anche con la clay Dobbiamo fare un buco per entrare in casa Tipo di qua E ci ho pure preso Bro, ci ho anche preso My god Allora Ci serve prima di tutto Delle torce F7 Qui possono spawnare Vabbè, mettiamole solitamente come faccio io Negli angoli Quindi diciamo Angolo, angolo Angolo, angolo Perfetto Andiamo a vedere un attimo sul tetto Come siamo messi Anche qua fuori Come siamo messi Allora, mettiamo una qui Perfetto Le mettiamo una qui Ok Una qua dietro E una qua su Ok Sul tetto Dovremmo essere più o meno a posto in realtà Questo li togliamo Qua ce ne mettiamo una qua sotto Giusto per evitare creeper Spawn di creeper Molto, molto random Che non ci piacciono Mettiamo una torcia qui E dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo Prendere il vetro Vetro, vetro, vetro C'abbiamo un po' di stack di vetro No, abbiamo solo un pezzo di vetro Qua non l'abbiamo Abbiamo della sabbia Direttamente della sabbia No, ce l'abbiamo pochissima Quindi cobblestone Che comunque ci serve Ah Ah no, vabbè Ok, ne abbiamo Abbiamo qua un po' di sabbia Ok, perfetto Facciamo diventare questa Della grassa E poi della sand Perfetto Quacciamoci la sand Li dividiamo a metà Così Perfetto Questi brick li teniamo Non si sa mai E la cobblestone Invece ne prendiamo Uno stack Perché la dobbiamo Piazzare a terra Quindi iniziamo A piazzare il pavimento Di casa Che comunque è una cosa Molto utile Molto molto utile Ehi Ehi Ok, perfetto Allora Andiamo così Piazziamo tutto quanto Perché deve scavare Come un dannato Quando Quando non deve Quando deve Non scava come deve Che cosa brutta Su Ecco, guardate Perché qua non scava Come Cioè, la scavava Bah Il mining drill Il nostro fucking drill 2.0 In realtà Perché non è più Un mining drill Non si chiama più Un mining drill Allora 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 Finalmente è arrivata La tanto Ristrutturazione Che tanti di voi Chiedevano Di casa Sinceramente Non sentivo il bisogno Fino adesso Di farlo Però comunque Sono felice Di accontentarvi Perché Me l'avete chiesta Davvero davvero In tanti Che chiedevate Di allargare casa E quindi Ho detto Vabbè Alla fine Cogliamo Tante cose insieme Utilizziamo Uniamo Ok bro Scusate Ma è entrata mia madre Tipo Tipo Bomber In casa No In camera Stavo Non sentivo più nulla Iniziato a parlare Così Cioè Visto che io Ero tranquillo Qui che parlavo Da solo Come un idiota Davanti a un microfono Cioè Mica si è fatta Un'idea Della serie Ma tipo Forse Sta registrando Ma che supposizioni Inutili davvero Vabbè Comunque 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 Ci serve un tetto E ci serve anche Molto velocemente Perché si sta facendo notte E non voglio che mi entrano Ragni In casa E quindi Vado per il tetto Quindi Quindi tetto 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 Detto Detto così Poi Sembra un po' Un'altra cosa Comunque Vabbè Allora 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 Vi stavo dicendo Uniamo Il Divertente Cioè L'utile Al direttevole Alla vostra richiesta Di Aumentare Le dimensioni Di casa Perché effettivamente Iniziava A essere La parte superiore Più che altro Perché Con il sistema Che ho fatto Di scendere giù Per fare parecchie cose E comunque Mi è stato molto comodo Non avevo bisogno Di Tanto 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 Spazio Perché tutte le cose Grosse Effettivamente Le ho messe Io le ho messe giù Le ho messe Nel Tra le stanza Che mi sono scavato Appositamente Per quei tipi di macchinari Mentre Adesso Purtroppo Per far arrivare La corrente E non avere troppa dispersione Probabilmente Mi conviene Tenerla qui Anche se Anche se Sarà un mezzo Macello Perché dovrò Farmi passare Tipo un cavo Che andrà per tutto Il tetto Andrà qui E scenderà Di l'altro lato Però comunque È sempre meglio Che andarmi a fare Una stanza Sotterranea Che Madonna Sarebbe stato un macello Proprio per Il cablaggio Avrei dovuto cambiare tutto E non mi andava Perfetto Allora Qua F7 Non mi segna nulla Mangiamoci Una bistecca La La sveglia è suonata Poco fa L'ho anche spenta Allora Qua vediamo F7 Come sta messo in giro Prima di tutto Qua ci dovremmo Ma quanti sono Beh non lo so Ma come Ma vi moltiplicate Alla velocità Di Ragà Qua se non mi do Una regolata Facciamo la stessa fine Di marco Con i polli E se facciamo La stessa fine Di marco Con i polli Penso che Ce ne vediamo Delle belle E forse È meglio Non farlo Vabbè Allora Fermi tutti Killiamo un po' Di maialini Allora È talmente carne Tanta carne di maiale Che potrei sfamare Tranquillamente Tutto al server Mi apro un pub Apro un pub Sul server Lo chiamo Lo chiamo Darenna Tipo No E Lo chiamo Viene a mangiare Darenna Così proprio Diretto Basta Non dovete riprodurvi Così tanto Mi serve un po' Di carne ogni tanto Basta Stop 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 Please Perché altro In questo In questo modo Mi spawna Sicuramente un creeper Là in mezzo Perfetto Così non mi spawna Più il creeper Allora Andiamo a vedere Di qua Come siamo messi Soprattutto sul tetto Che è la cosa Che mi interessa maggiormente Qua c'è Un po' di Qui c'è un po' di X vari Fermi Mettiamo due torci Non si sa mai Pure qui Perfetto Qua sul tetto Sul tetto C'è un maiale Come cazzo Ci sei salito sul tetto Mannaggia te Perfetto Ok guys Allora Intanto io mi sa che Tora un po' Vado a staccare Quella feed station Perché non è possibile Qua ci mettiamo Altra roba Qua mi piace Questa entrata Qui letterale Molto comoda Poi potremmo farne Anche un'altra Quando sposterò Stasza un mille Se mai di qua Che va di là Ci piace Ci piace Una cosa molto Particolare Molto Molto Come si dice Molto Effetto specchio Ecco perché De qua Alla fine Di là Sarebbe all'inizio Comunque Molto molto Figo Va bene guys Noi ci vediamo In un prossimo video Lasciate un mi piace Un commentino Passate il canale Qua sotto E niente Enjoy E scrivere il nese Con voi Bye bye Ciao 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 Grazie.